Buon lunedì e buon inizio marzo. Cosa sta succedendo? Nel senso che i mesi di per sé sembrano lunghissime non finire mai, ma poi alla fine siamo già a marzo, cioè mi sembra l'altro giorno che ho festeggiato capodanno, ma siamo già a marzo. Comunque febbraio in realtà è stato un mese un po' strano e non particolarmente produttivo sfortunatamente, ma poi ve ne parlerò magari meglio nel video della challenge, che se non sapete di cosa sto parlando vi lascio il link qui sopra e nella description box per il 2020, dato che il mese dei miei 30 anni ho deciso di fare una piccola sfida personale ogni singolo mese, quindi se volete restare aggiornati sugli sviluppi di questo progetto, ecco, cliccate il bottone iscriviti al canale. Per adesso sto pubblicando solo due video al mese, quindi non vi tartasserò con troppi contenuti, ma non si sa mai. Comunque, oggi invece facciamo un piccolo video coffee talk, in realtà è un video water talk, perché all'inizio del mese mi sono ammalata, ho avuto l'influenza ed è stata un'influenza un po' strana, onestamente, non mi era mai capitato di stare così male e per una settimana sono stata completamente knock out. Sicuramente siete aggiornati sulla faccenda se mi seguite su Instagram. Quindi per tutta la settimana praticamente non ho bevuto questo caffè e non so se è una coincidenza oppure effettivamente è una cosa reale, ma alla fine dell'influenza non avevo più male al collo. Se mi seguite da un po' sapete che io soffro di dolori alla cervicale, di micranea intensiva tantissimo. Vado sempre dal fisioterapista, dall'estate scorsa e nonostante ero migliorata non era mai sparito completamente. Da quando ho smesso di bere caffè, non dico che è sparito completamente, ma è diminuito del 90%. E quindi niente, per un po', non so, ho deciso di non bere caffè almeno per il momento e vedere se questa cosa continua nel lungo periodo. Quindi oggi facciamo un water talk perché ho preso una tisana prima e quindi non mi andavo di riprenderla. In realtà oggi vi volevo parlare di un discorso che ho iniziato l'altro giorno nelle storie di Instagram, quindi ancora una volta se non mi seguite su Instagram vi consiglio di farlo se vi interessano questi argomenti perché diciamo lì prendo lo spunto e possiamo anche interagire tra di noi. Mi potete fare delle domande o chiedere dei consigli e poi io da lì prendo spunto per creare questi video. L'altro giorno stavo appunto passeggiando, stavo in realtà aspettando che aprisse la farmacia e passeggiando per questa via ho visto che negli ultimi, nel giro degli ultimi mesi hanno chiuso tre punti vendita, quindi di piccole attività, non cadere eccetera eccetera. E mi ero un po' agganciata alla situazione del coronavirus che comunque ha creato una grandissima isteria e ho detto c'è in realtà un altro virus che sta affettando l'Italia. Affettando? Infettando. Affettando. Che sta infettando l'Italia? Ed è quello che appunto porta i piccoli business a chiudere. Questa cosa in realtà è la motivazione per cui io ho iniziato questo progetto perché vedevo delle piccole realtà molto promettenti con un prodotto di qualità, un'idea originale eccetera ma nel giro di mesi o di un anno, chiudevano. E quindi io non volevo che questo succedesse perché ovviamente un piccolo business è una persona che cerca di realizzare un suo sogno e il fatto che questo sogno fallisca o non possa diciamo vedere la luce del successo, toccare tantissime altre persone mi dispiaceva. E poi perché io faccio parte di una comunità, la mia città e questi piccoli business l'arricchiscono, l'arricchiscono con la loro offerta ma l'arricchiscono anche con la loro economia. Quindi era una cosa che proprio non mi andava giù e io ho scelto di fare questo percorso, di iniziare questo percorso proprio per questo motivo, per aiutare i piccoli business che hanno, o meglio le persone che hanno scelto di iniziare la loro attività di avere il supporto e gli strumenti necessari per poterla far crescere, fiorire e per poterle dare una vita lunga e sana. Quindi da lì ho attivato il box delle domande e ho chiesto a voi, secondo voi quali sono le cose che impediscono ai piccoli business di crescere e che fanno sì che poi debbano chiudere bottega? E le vostre risposte sono state molto interessanti. Come ho detto su Instagram non ci sono risposte sbagliate o risposte giuste, ma solamente punti di vista che appunto volevo ascoltare per iniziare una conversazione. Quello che spesso accade in queste situazioni è che si trova la responsabilità all'esterno. Lo facciamo sempre perché non ci vogliamo sentire completamente responsabili del fallimento di qualcosa, anche nel nostro piccolo quotidiano. E quindi molte risposte erano appunto, me le sono trascritte, erano appunto la troppa burocrazia, gli affitti troppo alti, il fatto che le persone non... la frase che mi è stata inviata è stata non pensano a far girare l'economia ma solamente la comodità di ordinare da casa. Dopo approfondiamo il discorso. Poi un'altra risposta era che la gente preferisce prodotti economici piuttosto che prodotti di qualità. Più o meno, diciamo, queste erano le risposte, una definizione di queste. E poi c'era un'altra parte che ha fatto osservazione del tipo si ha paura del cambiamento, c'è poca preparazione, poca originalità. Allora, trattiamo appunto un attimo il tema della responsabilità. Il tema della responsabilità è molto importante perché se noi mettiamo la responsabilità del nostro successo al di fuori di noi stessi non possiamo controllarlo. Quindi non possiamo, se la burocrazia è tanto e gli affitti sono alti, noi non possiamo controllare direttamente questi fattori. E quindi saranno sempre un fattore negativo che ci impediranno di aver successo se secondo noi la responsabilità del nostro successo sta in questi punti. Quello che invece occorrerebbe fare è darsi la totale responsabilità del successo del nostro business. Anche perché un business che apre adesso, quindi un piccolo business che apre nel 2020, è al corrente, almeno dovrebbe essere al corrente della burocrazia che c'è, degli affitti e quindi basare su di esse anche le scelte che puoi fare per attivare l'attività, i prezzi che decide di fare, il numero di clienti che si propone di avere per riuscire a stare dentro i propri corsi eccetera eccetera. Quindi dire che un business fallisce perché gli affitti sono alti o la burocrazia è tanta è un po' non so se dire che è sbagliato, però diciamo che è un mindset sbagliato perché tu da imprenditore, da proprietario di una piccola attività dovresti essere al corrente di tale cose e lavorare in funzione di esse. Lo stesso discorso vale anche per un business che ha aperto per esempio 10 anni fa, negli anni 90, no negli anni 2000, 10 anni fa, 20 anni fa negli anni 90, scusate non ci sono proprio la matematica, adios, 30 anni fa, porca miseria, dovrei rifarla questa cosa ma invece la tengo per dimostrare la verità del flusso creativo, io non mi sono scritta niente quindi sto proprio chiacchierando con voi, comunque negli anni 90, 30 anni fa, anche nel suo caso, nel caso in cui gli affitti appunto impennassero o la burocrazia aumentasse, anche in quel caso il proprietario del business, quindi l'imprenditore dovrebbe essere a conoscenza e apportare un cambiamento e da qui si attacca anche la questione della paura del cambiamento, comunque sta nell'imprenditore modellare il suo business per far sì che evolva con i tempi, quindi con l'aumento degli affitti, con l'aumento della burocrazia, così come a volte c'è il calo degli affitti e il calo della burocrazia, quindi raramente. Quindi diciamo la responsabilità è fondamentale per lavorare sul successo del proprio business, se si pone la responsabilità del proprio successo al di fuori di noi stessi non abbiamo un controllo, mentre se la dedichiamo totalmente a noi, allora lì sì che possiamo andare a lavorare e a porre dei cambiamenti che ci fanno raggiungere i nostri obiettivi. A nessuno di noi piace uscire dalla propria zona di comfort, penso che sia normale, ci troviamo, siamo qui nelle nostre abitudini, abbiamo le nostre routine, le cose che conosciamo e l'idea di fare qualcosa di inaspettato che non ci piace o non sappiamo se riusciamo bene eccetera, è normale avere paura. La domanda però è, questa paura del cambiamento, il non uscire dalla nostra zona di comfort, quanto ci costa, perché se quando si parla del nostro business non si parla solamente di noi, ok? Probabilmente abbiamo dei collaboratori, dei fornitori, anche una famiglia da sostenere che vive grazie al nostro business, quindi pensare solamente alla nostra situazione di comfort mi lancio a dire che è un po' egoistica come cosa, ma non nel senso negativo, perché lo so che è un riflesso, lo faccio sicuramente anch'io in tantissime situazioni, però ecco avere la visione che il non uscire dalla nostra zona di comfort quando si tratta del nostro business può precluderci una crescita che va a impattare non sulla mia vita e quindi dire no, è scomodo per me, quindi preferisco non farlo, ma va a impattare tantissimi altri fattori e poi appunto ci può precludere una crescita. È chiaro che uscendo dalla nostra zona di comfort possiamo anche sbagliare, possiamo anche fare un passo che ci porta uno step indietro, questo è possibilissimo, però potrebbe anche portarci uno step in avanti e quindi provare, tentare, specialmente su delle cose che hanno un livello di rischio molto molto basso, probabilmente ne vale la pena, ecco, questo è il discorso, quindi e probabilmente la nostra paura di cambiamento dipende anche dal fatto che molto spesso non ci sentiamo padroni di quel cambiamento che vogliamo andare a portare, non sappiamo da che parte iniziare, non conosciamo la materia, non abbiamo idee per portarlo alla vita questo cambiamento, ecco, qui secondo me questo è un punto molto importante perché tendenzialmente il piccolo business, la persona che si crea da sé, che crea da sé la propria attività e mi ci metto dentro anch'io perché anch'io sono così, tende a vedersi come un'unica persona che deve riuscire a fare tutto, quindi devi saper fare questo, se non lo fai lo devi studiare da sola, non puoi chiedere aiuto a nessuno, eccetera, eccetera. In realtà non è così, per fortuna, nel senso che anche se noi siamo da soli nella nostra attività, ci sono tanti professionisti che sono appunto specializzati in quella cosa, in quella materia e che ci possono dare una mano, dare una mano per implementarla, dare una mano per capirla e quindi puoi esserne padrone anche per poter gestire qualche piccole cose in modo indipendente. Per esempio io con i miei percorsi di consulenza faccio proprio questo, cioè mi affianco al piccolo business, al piccolo imprenditore che è in un momento in cui magari vuole apportare un cambiamento, grande o piccolo che sia, e assieme troviamo un percorso per farlo, troviamo gli strumenti giusti per implementarlo, se c'è da spiegare un determinato processo glielo spiego in modo semplice con un linguaggio che possa capire, e poi dopo cerchiamo di rendere questa persona indipendente, cioè del fatto che riesca in modo indipendente a identificare i fattori di rischio, identificare i fattori critici e a implementare in un secondo momento un nuovo processo di risoluzione. Ecco, quindi il fatto di voler fare magari sempre tutto da sole, tutto in modo indipendente, senza chiedere mai aiuto, anche questo ci porta poi dopo a una situazione di fallimento, perché non possiamo essere esperti in tutte le materie, è difficile anche prestare attenzione a tutte le cose che ci sono da fare, perché se tu vendi scarpe, tu sei bravo a vendere scarpe, a trovare i fornitori giusti, a capire le tendenze, eccetera, eccetera. Non è detto che tu sia capace di crearti un tuo sito web, creare dei contenuti, creare una strategia social, non è detto neanche che tu sia bravo a comunicare con i tuoi dipendenti. E quindi queste cose però provocano una reazione una catena che se tu non te ne prendi cura, non te ne prendi cura nel modo giusto, poi a un certo punto rompono il sistema. Quindi avere una persona esterna che ti aiuta a vedere le cose da una prospettiva diversa, ti aiuta a mettere in pratica dei sistemi che poi ti permettano di migliorare la tua situazione e di gestire meglio le tue task quotidiane, può aiutarti ad avere un business che funziona molto meglio e che ti rende poi dopo alla fine molto più libera di concentrarti su quelle che sono effettivamente le cose che ti piacciono e che sei brava a fare. L'ultimo punto di questo Coffee Talk lo voglio dedicare all'ultima risposta che in realtà mi ha inviato la mia amica Viola, che mi ha detto che conosce due realtà che avevano una selezione di prodotti bellissimi, fantastici e ho anche una bella presenza social, digital, con un sito eccetera eccetera, ma che poi sono fallite. E quindi mi chiedeva come mai, cioè non riesco a capire perché questo è successo. Allora, innanzitutto è difficile capire esternamente, quando si è esterni ad una situazione, se una presenza digital sia effettivamente efficace e buona e ottima impostata correttamente per riuscire a sostenere l'obiettivo finale dell'azienda. Ne ho parlato qualche giorno fa su Instagram sulla differenza di crescere sui social e crescere grazie ai social. Perché appunto crescere sui social potenzialmente potrebbe essere anche abbastanza facile, nel senso si creano dei bei contenuti, la gente inizia a seguirsi, ha un bel profilo eccetera eccetera. Ma convincere queste persone poi ad acquistare i nostri prodotti e servizi è tutto un altro discorso. E quindi bisogna vedere se effettivamente la strategia che questi punti vendita avevano creato, messo in atto, era effettivamente finalizzata a poi portare l'utente, una volta che avrà interagito con vari contenuti, puoi portarlo sul sito web per acquistare i loro prodotti e servizi. E poi ancora, se una volta acquistati i loro prodotti e servizi c'era un sistema messo in atto per fidelizzarli, quindi per convertirli nuovamente in clienti eccetera eccetera. Sono tutti dei sistemi che non si vedono, noi dall'esterno non vediamo, che però sono importanti perché altrimenti è come buttare tantissima acqua in uno scolapasta, quindi in un contenitore bucato. L'acqua entra, entra, entra ma esce tutta e non si raccoglie niente, non si raccolgono risultati. Un altro punto a cui bisogna prestare molta attenzione in questa situazione è il messaggio che si dà e anche il processo d'acquisto. Per esempio uno dei due punti che mi erano stati inviati era la questione che la gente preferisce acquistare in comodità da casa piuttosto che far girare l'economia e quindi acquistare il negozio. A parte il fatto che l'economia tecnicamente gira anche acquistando online, perché online non si acquista solo su Amazon ma si può acquistare anche da piccoli business. Ma l'idea della comodità, effettivamente al giorno d'oggi l'utente, medio, cerca una comodità perché abbiamo meno tempo a disposizione. Siamo anche abituati ad avere le cose sempre più velocemente. Pensate solamente al computer. Quando io avevo il mio primo computer, il tempo di accenderlo potevo farmi il caffè, fare la merenda, fare i compiti, leggermi un libro eccetera eccetera. E anche quando facevo una richiesta accedevo ad internet, passavano un paio di minuti e la cosa non mi disturbava più di tanto perché ero abituata a quello. Adesso se una pagina si carica, una pagina web si carica in meno di un nanosecondo, già sbuffiamo, già ci stressiamo, non funziona niente eccetera eccetera. Quindi tutte queste piccole cose hanno portato l'utente ad avere un tasso di attenzione, un tasso di attesa infinitamente minore a quello che era il tasso di attesa di una volta. E questa cosa non possiamo combatterla. È come ritorniamo al discorso della responsabilità. è un dato di fatto che è stato portato dall'evoluzione tecnologica. O ci arrabbiamo e continuiamo a sbuffare e dire no ma tu devi aspettare, no ma la qualità di un servizio eccetera. Oppure ci adattiamo, cerchiamo di velocizzare i nostri processi o se non possiamo, dobbiamo comunicare, dobbiamo far capire perché quel processo richiede più tempo, perché chiediamo all'utente di aspettare. E probabilmente se siamo capaci di creare un messaggio che faccia capire all'utente che in realtà quel momento di attesa porta maggior valore al risultato finale, sarà più disposto ad aspettare, sarà anche contento di aspettare. Si sentirà quasi speciale per aver aspettato. È chiaro che se invece noi non comunichiamo e ci aspettiamo che l'utente lo capisca da solo, la cosa non funziona. Quindi strategia e adattamento, quindi cercare di velocizzare i processi dove possiamo, dove non possiamo comunicare. Quindi comunicare il valore del nostro prodotto e servizio, cercare di veramente trasmettere il motivo per cui quel processo richiede tempo o il motivo per cui quel processo o quello prodotto ha un costo più elevato. Perché non è vero secondo me che la gente preferisce pagare meno e non bada tanto alla qualità. In realtà, specialmente i giovani, al giorno d'oggi c'era stato proprio uno studio che ha condiviso settimana scorsa Will Italia, che vi lascio taggato qui sotto nella description box, che diceva proprio che la generazione Z, che è quella dopo i millennial, quindi i giovani, prestano maggiormente più attenzione alla qualità e l'eticità dei prodotti e servizi che acquistano. Quindi non è vero che non si guarda alla qualità. È chiaro che quando un prodotto, che può anche essere di qualità, ha un prezzo molto più alto a quello che è la soglia solitamente considerata per quel prodotto. Quindi se io sono abituata a pagare una maglietta a 10 euro e tu me la vendi a 40, mi deve spiegare perché quella maglietta costa 40. Non mi puoi solamente dire costa 40, è di cotone biologico, ecosostenibile. Non mi basta. Non mi basta perché io sono abituata a pagare 10. E quindi tu mi devi veramente, con la tua comunicazione e il tuo messaggio, devi veramente convincermi e far capire perché è impossibile che quella maglietta costa i 10, piuttosto che esprimermi magari perché quella maglietta costa 40. Quindi tirando un po' alle somme di questa discussione, perché lo so che poi dopo si parte per tante tangenti diversi e probabilmente dovrei iniziare a scrivermi una scaletta vera e propria per i miei video, però questi video sono coffee talk, quindi sono veramente una chiacchiera. Comunque, tirando le somme, il discorso era perché i piccoli business falliscono. Molto spesso c'è sicuramente, ci può essere sicuramente magari una mancanza di mentalità imprenditoriale, quindi mancanza di concentrarci su quelli che sono gli ostacoli alla crescita del nostro business, che possono essere la burocrazia, l'affitto, eccetera, eccetera. E quindi prendendo in considerazione questo, capire come fare evolvere il nostro business per poter stare a passo con i tempi. Quindi questa è una mentalità imprenditoriale che sicuramente bisogna avere se si apre un'attività. ma poi c'è anche un'altra parte, che è quello di relazioni, di crescita, di miglioramento, che non ha nulla a che fare con elementi esterni, ma ha tutto a che fare con il nostro atteggiamento. Quindi quanto noi investiamo in realtà del nostro tempo per migliorare la nostra attività? Siamo al corrente dei punti di debolezza del nostro sistema, del nostro prodotto, di noi stessi e di come poter migliorare questa situazione. Abbiamo bene in mente la strategia con cui i nostri clienti ci scoprono, si trasformano in clienti e poi si fedelizzano. Che opinione hanno i nostri clienti di noi? Perché non ritornano? Perché non ci acquistano? Tutte queste domande devono avere una risposta se siamo proprietari di un'attività. Se non diamo una risposta e viviamo per inerzia, quindi ci presentiamo nel nostro punto 20 da tutti i giorni, quando uno entra dalla porta bene, se nessuno entra, pazienza, domani sarà un giorno migliore, abbiamo vita breve. Ecco, io spero che questo video vi abbia motivato e non vi abbia terrorizzato. Diciamo, il mio obiettivo è sempre quello di darvi dei punti di riflessione che vi possano permettere di migliorare magari la vostra realtà, di iniziare ad applicare qualche cambiamento, a rendervi conto se magari avete bisogno di una spalla che vi aiuti in questo percorso e assolutamente quello non è quello di terrorizzarvi e dire che siete cattive persone, assolutamente no. Si può sempre migliorare e anche quello di essere un imprenditore, avere una piccola attività, ma anche un freelance purtroppo non è una cosa che ci insegnano a scuola o che nasciamo già con queste capacità. È un percorso, è un percorso che ha tanti ostacoli, ha tanti rimbalzi indietro e che è difficile, è difficile e ci sono tante cose da imparare. Quindi, anche se siete in una situazione in cui non avete abbastanza clienti o ne avete persi, oppure siete un po' in una situazione di plateau in cui non crescete più ma avete bisogno di crescere, sapete che c'è sempre qualcosa che voi potete fare. L'unico modo è avere un mindset positivo, che quindi non inizia a piangersi addosso dicendo è colpa del governo, è colpa degli affitti, ma dire, ok, governo e affitti sono lì, io lì non ci posso fare più di niente se non votare le persone giuste e magari vedere se quella location è giusta per me o posso spostarmi da qualche altra parte. Per il resto è cosa posso fare io, cosa posso fare io attivamente per cambiare quella situazione. È tutto a posto? Non è mai tutto a posto. Oppure c'è qualcosa che posso migliorare. Io vi saluto e vi ringrazio per avermi dedicato a questi tanti minuti perché questo video era abbastanza lungo. Io vi saluto, vado a bere un goccio d'acqua perché ho lavo la secca e poi mi metto al lavoro. Ciao! 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 Ciao!